Sala 15, il numero degli iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla tragica morte di Piero Bruni e Filippo Bagni, i due dipendenti dell'archivio di Stato uccisi lo scorso 20 settembre da una fuga di gas Argon dall'impianto antincendio. C'è infatti un altro indagato, sempre per omicidio colposo. Si tratta di Alessandro Gosti, il primo progettista del sistema di sicurezza del palazzo in cui è sede l'archivio in piazza del commissario. Iscritti nel registro degli indagati anche il direttore dell'archivio e il titolare della ditta Remas che aveva in appalto la manutenzione del sistema antincendio. Nel registro degli indagati anche i due tecnici che hanno firmato il piano di sicurezza per conto della IGEAM, la società romana specializzata in formazione a cui il Ministero dei Beni Culturali si è affidato per la gestione della sicurezza nei suoi edifici. Il PM, il laureato a dei titolare delle indagini, adesso ha chiesto anche un'integrazione alla perizia informatica affidata al consulente per fare il backup dei dati del computer che gestisce il sistema di sicurezza. La perizia era stata affidata a Venerino Locicero, esperto in informatica forense. L'incarico sarà conferito il prossimo mercoledì.